15 mesi dall'incendio alla discarica di Colle Sant'Antonio. Sembra trovare la quadra all'operazione di avvio della bonifica. Se nei giorni scorsi la buona notizia riguardava la revoca dell'ordinanza che vietava l'utilizzo di prodotti coltivati nelle aree circostanti, oggi la Regione dà la sua approvazione per i fondi necessari alle operazioni, anche se in via ancora generale, visto che gli interventi possono essere condotti secondo più modalità e diversi anche i costi. Abbiamo fatto questa riunione con il Sottosegretario Mazzocca, con il Sindaco di Bucchianico e con la Prefettura e l'Arta soprattutto, la quale Arta ci ha dato confortanti risultati rispetto ai livelli di inquinamento che sono al di sotto della media, ma soprattutto oggi Arta ci deve dare i codici CER di quei rifiuti in modo che si possa avviare i 5.250 metri cubi di rifiuti ad una destinazione diversa da quella del sito di Colle Sant'Antonio. Per far questo abbiamo bisogno ovviamente di intervenire con delle ordinanze, ordinanze che predisporro io, ma è necessario prima che io faccia le ordinanze che la Regione ci dia certezza sulla finanziabilità del progetto di bonifica, progetto che verrà redatto dal Comune in collaborazione con la Regione e ovviamente ci dovrà dare certezza anche sui tempi di erogazione dei fondi, perché solo a quel punto potremo per davvero appaltare i lavori per la pulizia dell'area e quindi della caratterizzazione della stessa. Esiste una stima indicativa della somma che è indispensabile per la bonifica? Già nel dicembre del 2015 noi avevamo fornito alla Regione un primo progetto, che ovviamente adesso va adeguato alla piena conoscenza della situazione di quel sito, che stima l'intervento oscillabile a seconda della modalità di lavorazione e di smaltimento dai 300 ai 500 mila euro.